Sì, uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, uno, due, tre. Sul Corriere della Sera, in prima pagina, l'Olanda, con le elezioni, frena l'onda populista, secondo gli exit poll, in testa i liberali di Rutte, Wilders non ha sfondato, verso una maggioranza di moderati, al secondo posto tre partiti. Il crollo laborista, balzo dei Verdi, alle elezioni politiche in Olanda, frena quindi l'onda dell'estrema destra di Geert Wilders, che non fa il balzo previsto. Il premier liberale, Mark Rutte, nettamente primo negli exit poll, esulta. Ha fermati i populisti, per lui però c'è il rebus maggioranza. Sono tre partiti in corsa per il secondo posto, da cui anche il partito anti-immigrati ed euroscettico di Wilders. Crollano i laboristi, balzo in avanti del verde Jesse Claver, che vola 16 seggi, molto alta l'affluenza alle urne, l'82% degli olandesi, è andato a votare. Il sollievo dell'Europa ha passato il primo testo, ora si guarda al voto in Francia e Germania. Gentiloni dichiara, rilanciamo l'unione, stop alla destra, anti-europea. Lo scrittore Adrian Van Disse, dopo tutto questo odio, tornerà il pensiero razionale. Questo era un quadro dall'Olanda sul Corriere della Sera. Il leader dell'estrema destra dice però, questo risultato mi basta, nell'approfondimento all'interno del giornale. Poi l'economia va, la Fed alza i tassi in America, la Federal Reserve ha alzato i tassi per la seconda volta in tre mesi, centrato quindi l'obiettivo di inflazione vicina, ma sotto al 2% e piena occupazione negli Stati Uniti. Previsti altri due ritocchi nel 2017. I volontari della bellezza sono oltre 70 luoghi di interesse turistico e culturale in Italia, invisibili per mancanza di personale, ma che è possibile ammirare grazie ai volontari di Turing che mettono a disposizione il loro tempo. Il pezzo di Antonio Polito. C'è il voto ma non sia una resa tirare a campare? No, Gentiloni ha detto che non intende farlo. Ma scegliendo quella metafora dal nostro Presidente del Consiglio, sicuramente non è sfuggita l'eco della postilla che sempre vi aggiungeva Giulio Andreotti. Tirare a campare è sempre meglio che tirare le cuoia. Se il Premier si sente stretto in questa alternativa così classicamente da Prima Repubblica, come in un qualsiasi governo a guida democristiana del tempo che fu, ha le sue ragioni. La lunga crisi del PD, che cova da mesi sotto le ceneri referendari del governo Renzi, ma che forse era cominciata da molto prima, sta esportando instabilità in tutto il sistema. Ieri Gentiloni ha respinto l'attacco esterno portato dal Movimento 5 Stelle, che facendo cadere Lotti avrebbe fatto cadere l'intero gabinetto e forse messo fine alla legislatura. Ma che accadrà quando un ben più infido attacco sarà portato dal gruppo bersagliano di MDP? Gli scissionisti, infatti, seppure con zoppicante logica, non hanno votato ieri una mozione di sfiducia dei 5 Stelle, ma vogliono ugualmente le emissioni di Lotti. Ne hanno depositato una mozione in cui chiedono che Gentiloni gli ritiri le deleghe. Se fosse calendarizzata rischierebbe di raccogliere più consensi di quella bocciata ieri. Una vera e propria trappola. A loro leggeria, per una strana congiuntura, il governo Gentiloni ha perso prima come la mera prosecuzione del Renzismo, sotto altra forma, poi invece è diventato la bandiera degli oppositori di Renzi. A centropagina, Starsky e Hatch, più forti della vita, fratelli dal successo TV alle malattie, erano i poliziotti più simpatici della TV anni 70 e sgombavano sulle strade della California. Oggi Starsky, Paul Michael Glazer e Hatch, David Stola, hanno 73 anni ma sono rimasti amici. Fratelli, dicono loro, così amici che la loro foto a Liverpool per una convention di fan risulta emozionante. Hatch sulla sede a rotelle, Starsky a spingerlo. Colpiscono me per Renzi, dice Lotti, dopo la sfiducia respinta con 161 no e 52 sì, respinta la sfiducia. L'autodifesa in Parlamento del ministro Luca Lotti, indagato nel caso Consip, non convince Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera per i 5 Stelle. Deve querelare Luigi Marroni, altrimenti il suo discorso non vale nulla. Rilancia le accuse anche contro l'ex premier Matteo Renzi, il cui padre è coinvolto nelle stesse indagini e dice io dico che Renzi sapeva dell'inchiesta Consip. Continuiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina di Repubblica. Anche qui le elezioni olandesi, l'Olanda che non cede al populismo nel voto che spaventava l'Europa, l'ultra destra di Wilders non sfonda. Boom dei verdi, crollo lavorista. Per gli exit poll vincono i liberali del premier uscente Mark Rutte con il 21%. L'affluenza è il record, 82%. L'Europa che tira un sospiro di sollievo, l'ondata populista di Gert Wilders. Non ha travolto i Paesi Bassi. Ha vinto il partito liberale del premier Mark Rutte che si scalda per il terzo mandato. 21% e 31 seggi alla Camera bassa. Secondo gli exit poll di ieri sera 10 in meno rispetto a 5 anni fa e una maggioranza assoluta di 76 seggi lontana. La destra di Wilders raccoglie 19 seggi, 4 in più rispetto alle precedenti legislative. Le interviste per Repubblica, il politologo Lazare, serve una battaglia culturale per far ripartire l'Unione. Il filosofo Habermas, la sinistra, torni a riscoprire le sue origini e gli ultimi. La diga olandese, scrive Bernardo Valli. La diga olandese ha funzionato, ha tenuto. La temuta ondata populista islamofoba ed evroscettica non si è abbattuta sui Paesi Bassi. Rimassi fedeli alla tradizione cosmopolita e permissiva. I partiti democratici hanno conquistato la stragrande maggioranza dei 150 seggi del Parlamento. Ma la viscerale avversione per lo straniero non è stata estirpata del tutto dal voto di ieri. Sfiducia respinta allo spogo di Lotti, scissionisti subalterni al Movimento 5 Stelle. Soddisfatto e provato perché non è finita. Per me l'unica cosa importante è che le bugie vengano a galla, una per una, detto Luca Lotti. Stefano Folli nel suo punto, la mediocrità della politica, la piesteatrale andata in scena al Senato, ha una caratteristica, nessuno fra i protagonisti è davvero colpevole, nessuno è veramente innocente. A centro pagina il ragazzo fragile, lo dice a tempo di rap, in un video una storia di solidarietà e integrazione a scuola. La storia di Luca a Bologna insieme ai compagni di classe dell'Istituto Salvemini hanno realizzato un video per raccontare questa tematica. C'è poi l'inchiesta su Repubblica, la carta d'identità elettronica c'è, ma non decolla, vent'anni dopo il primo progetto, 12 normative diverse, le fallimentari fasi di sperimentazione, anche l'Italia ha la sua carta d'identità elettronica, o meglio ce l'hanno 300 mila cittadini di 199 comuni. L'altra inchiesta, Regeni scoperti 10 militari coinvolti, tra cui due generali, i sequestratori, i torturatori e i assassini di Giulio Regeni, si sono mossi con un'unica regia e con il pieno coinvolgimento di altri ufficiali degli apparati di sicurezza egiziani. Si tratta di 10 uomini, ora compiutamente identificati. In Italia basso, la corruzione a Roma e a Napoli, come tangente chiede il seno rifatto per l'amica, i dettagli da commedia all'italiana come il silicone al seno e l'assunzione delle nuore. C'è tutta la declinazione della mazzetta nell'inchiesta della Procura di Roma, che ha portato in carcere o ai domiciliari 9 persone per reati come corruzione, turbativa d'asta e traffico di influenze. Un menù delle tangenti, chiamate Globuli Bianchi, che partiva dall'ASL Roma 1, passava per la corte di Cassazione e arrivava fino alla Camera. Lo studio sullo spazio-tempo nel Gran Sasso si misura quanto è veloce la Terra. Il pezzo per Repubblica di Elena Dusi, quando un fascio di luce si accende dentro una montagna, può accadere che Einstein incontri la scienza dei terremotri. Questo gioco delle strane coppie ha luogo nei laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questo è il pezzo di taglio scientifico che troviamo all'interno del giornale della Repubblica. L'amaca di Michele Serra, che parla della linea di difesa di Grillo, non è responsabile del suo blog e in linea con i tempi li riassume bene come giusto che sia per un leader così di tendenza. Grillo non è responsabile perché nessuno degli oneri del vecchio mondo politico-mediatico è riproponibile. La rete, così come la modellano i suoi più disinvolti e forse più autentici interpreti, produce profitti ma non ha editori, con voglia miliardi di parole e opere, ma misconosce il diritto d'autore, pullula di pubblicità occulta, ma senza il filtro del cuna. Autority solleva tremende tempeste verbali, ma ricusa i vincoli legali ed etici fin qui noti. La canugna, il falso, la violazione della privacy. Sì, onori senza oneri. Ci fermiamo adesso, una piccola pausa per noi e torniamo con gli altri giornali, le notizie dal web, fra poco.